musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi non vi state già leccando i baffi ragazzi porca di quella porca con il video di questa mattina delle 8 e un quarto abbiamo scoperto ragazzi parte della trama di fortnite riguardante la season 5 una cosa veramente incredibile ragazzi gli egizi arriveranno su fortnite avremo anche la sezione dedicata all'antico impero egitto e non avete ancora visto nulla se oggi avete aperto il gioco ragazzi e avete guardato il cielo sono certo che avrete notato che la crepa sulla sinistra dello squarcio enorme quella in poche parole che abbiamo visto ieri è nuovamente ingrossata si sta crepando di brutto e stiamo vedendo ragazzi come una forma a cupola sta riempiendo tutto il cielo della mappa di fortnite una cosa veramente veramente incredibile ragazzi siamo già certi che avremo due epoche storiche nella nuova season raga gli egizi e ehi rome buonanotte che spoiler gli egizi e il far west ragazzi ma che spoilerone e il far west raga abbiamo visto quasi una settimana fa delle nuove immagini dei nuovi oggetti trovati relativi al far west praticamente c'era la carrozza c'era il tavolo da poker abbiamo visto l'insegna del paese ne abbiamo visti veramente tantissimi sulla te rido perché ho la chat che sta ridendo come i ciu la ragazzi grazie al nostro grandissimo amico quello che succede su twitch e youtube abbiamo delle immagini appena estrapolate di prepotenza dai file di gioco di fortnite immagini ragazzi che riguarderanno una nuova epoca storica che verrà inserita su fortnite e ragazzi io ve lo dico so già grazie sempre a lui tutta la trama della season 5 come inizierà come continuerà e come finirà incredibile è uno spoiler da farti battere i denti anche se non hai freddo una roba incredibile ma non divulghiamoci facciamo le cose per ordine ragazzi siete pronti come al solito a vedere intanto permettetemi un ringrazio anche in questo video fatemi fare questo gesto il mio grandissimo amico frexy royal ragazzi mi raccomando andate anche nel suo canale perché è veramente un ragazzo con un cuore d'oro mi raccomando facciamolo salire in due giorni a mille iscritti così facciamo prendere il colpo gli facciamo prendere pronti ragazzi pronti si scrive fre x e j pronti 3 2 1 shambadi to love guardalo qua guardalo qua ragazzi pronti sono state recuperate delle immagini riguardanti l'antico impero romano ragazzi questa è palesemente o è greca o è romana ragazzi uno dei due aspetta che sistemo il jingle un po più sistemato il jingle ok a posto serve il filtro antipop perfetto ragazzi incredibile nuova statua dell'impero romano o potrebbero essere i greci e poi vi dirò perché andiamo avanti ragazzi andiamo avanti guardate un po scianchili e qua invece ragazzi è palesi si sta probabilmente parlando degli antichi greci perché loro erano soliti fare statue con le popazze di fuori in poche parole tutte sbiotone con una tipa che non si capisce bene cosa stia facendo momentaneamente in questa sua posa sta espletando situazioni un po poco decorose comunque ragazzi secondo file di gioco solo per voi e non finisce qua ragazzi attenzione un'altra statua ragazzi sembrano le statue che ci sono dentro i templi greci tempi templi templi i templi greci e non sono finite e non sono finite raga sbronk questo però sembra un tipo romano perché allora lo possiamo riconoscere dalla fasciatura che gli passa sulla spalla e lo va invece a fasciare appunto all'altezza del bacino una roba incredibile ragazzi guardate che storia un sacco di file meravigliosi recuperati dal nostro amico come già vi ho detto prima quello che succede su twitch e youtube che ringraziamo ancora e non è finita qua e non è finita qua questo è romano raga questo è palesemente romano ragazzi guardate sembra tu gli augusto signore filisto nel senso non può essere che romano anche perché il bottone quello di ottone o d'oro addirittura che avevano qua teneva appunto tutto il saio che loro mettevano ex su del professore di storia avanti ancora avanti ancora sbrang questo ragazzi invece è un po più particolare ovviamente la qualità non è delle migliori ma i file sono appena stati recuperati questo è un tavolo che sembra davvero essere romano come vedete stondato tutto bellissimo con sopra il rosso e le bordature gialle veramente di una ricca casa probabilmente o greca o romana proseguiamo ancora ecco con un tavolo da banchetto è stato trovato anche questo ragazzi come vedete una bottiglia un porta frutta e una pentola davanti stanno sopra questo tavolo probabilmente in argento con una tovaglia in velluto azzurro e ancora non ci fermiamo un'altra tavola imbandita qua invece un po più strana la cosa perché i romani se ve lo ricordate ragazzi mangiavano sdraiati e quindi non si sa se sia romano o meno comunque questo è un altro tavolo dovremo arrivare in chiusura anche con questo letto che non è a baldacchino però sembra sempre estrapolato ragazzi da una qualsivoglia epoca greco romana chiudiamo con un lampadario ragazzi meraviglioso bellissimo di cristallo quindi ragazzi ci dovremmo aspettare davvero un grazie frex si chiama frex j real frex j real bellissimo ragazzi bellissimo anche questo lampadario meraviglioso meraviglioso ed era il penultimo oggetto che va a chiudere ragazzi con queste tende bellissime un sacco di immagini estrapolate ragazzi dal nostro amico non voglio spoilerarvi troppo altro ragazzi perché sappiamo davvero tante altre cose ragazzi vi dico solo una piccola cosa per lasciarvi presagire il prossimo video ragazzi avremo piramidi e dune ok non sappiamo dove ma le avremo verranno introdotti gli animali ragazzi verranno introdotti gli animali ci saranno dei cammelli abbiamo un licks al volo le piramidi e le dune dovrebbero sostituire il grande campo da calcio quello inserito appunto per festeggiare i mondiali russia 2018 ragazzi avremo i pappagalli non vi dico dove voleranno vi dico solo gli animali perché non posso farcirvi di troppa roba avremo i pipistrelli ci saranno le mucche e ci saranno pecore e cavalli io qua mi fermo perché non posso dirvi altro ragazzi faremo un altro video di certo se ne volete un altro ragazzi a parte che ve lo farò comunque mi raccomando un bel pollicione in su dai raga che non vi costa niente iscrivetevi in tantissimi al canale perché questi leak sono bel croccanti sono i leak croccanti come quando ti mangi il nocciolino ragazzi veramente veramente interessanti un bel like una bella iscrizione al canale condividete questo video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo presto ciao ciao